L'11 giugno c'è una manifestazione importante a difesa della Costituzione, l'articolo 2 della Costituzione, che se parla molto dell'articolo 3, l'uguaglianza dei cittadini, dell'articolo 1, la Repubblica fondata sul lavoro, ma l'articolo 2 è ugualmente importante. Rileggiamo, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali. Siamo tutti uguali, ma è mai possibile che nel terzo millennio i cittadini devono ancora essere divisi per motivi aberranti? Per questa ragione io personalmente e l'Italia dei Valori aderiamo alla manifestazione che è i Pride dell'11 giugno per rilanciare la difesa della Costituzione. Per favore, siamo tutti uguali.